Amici di milan.soccer eccoci di nuovo insieme io e oggi c'è il vice direttore alienino che è venuto a trovarci dalla redazione noi in questo momento siamo qui negli studios rossoneri allora prima di cominciare come sempre vi ricordiamo io e alienino di iscrivervi al canale di mettere un like a questo video e di condividerlo con i vostri amici rossoneri sì un po di pubblicità se ce la fate grazie diventate ambassador brand ambassador così dicono quelli bravi ma no se ci fate un po di pubblicità ci fa piacere allora 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 io credo che una delle caratteristiche principali nella vita no una delle cose che ci fanno dire se una persona può essere considerata all'altezza oppure meno è rappresentata dalla coerenza intendo dire che il milan negli anni passati e soprattutto faccio riferimento agli ultimi due anni il milan negli ultimi due anni ha avuto grossi problemi diciamocelo francamente perché questa nuova proprietà era arrivata con una certa con un fare molto arrogante lo devo dire con sincerità facendoci pensare chissà quali scenari ma al dunque ad oggi devo dire che questi scenari non si sono realizzati e allora così come l'anno scorso nonostante l'anno precedente il milan avesse vinto uno scudetto per mancanza di risultati questa fu diciamo così la dichiarazione ufficiale quelle ufficiose non mi interessano la dichiarazione ufficiale fu mando via te paolo maldini perché non hai raggiunto certi risultati e così quelli che erano i suoi uomini vice hanno scalato il vertice dandomi a me personalmente un fastidio enorme e sto parlando prima di furlani poi di muncadà e ancora ultimamente dello stesso slatan ibraimovic ho iniziato una serie di appuntamenti dicendo che la memoria conta per cui bisogna ricordare il motivo per cui siamo arrivati fino a qua adesso arriviamo alle parole di furlani ci ho messo un po a parlarvene perché perché le ho volute studiare bene lui dice così in maniera abbastanza ovvia che sarà una settimana chiave da tifoso e da dirigente qui apro una doppia parentesi tifoso diciamo che lo lasciamo da parte dirigente commissariato c'è un nome il tuo ruolo è stato commissariato cioè ufficialmente sei l'amministratore delegato ma tutto passa per slatan ibraimovic quindi io personalmente non so quanti di voi hanno mai avuto modo di lavorare ai vertici di un'azienda me ne sarei andato per dignità stiamo parlando dell'intervista che è stata fatta a da zona e il dirigente dunque ha affrontato vari temi di casa rossonera è un po' presto per fare un bilancio tecnico il bilancio è fatto immediatamente perché altrimenti ti contraddici vuol dire che non sei un tifoso il vero tifoso sa che la casa del milan è la champions league noi siamo usciti senza neppure pensare di arrivare chissà dove poi dice siamo a 12 punti avanti rispetto all'anno scorso beh noi l'anno scorso siamo andati particolarmente mare eppure c'eravate voi l'anno prima invece siamo arrivati primi in classifica è chiaro che se tu prendi come riferimento il 1900 non so cosa abbiamo fatto più 41 punti dell'anno in cui eravamo in serie b che cosa sta a significare questo i punti di riferimento non li devi prendere rispetto all'anno scorso ma li devi prendere rispetto a due anni fa cioè quando siete arrivati ah tu sei arrivato dopo? eh no amico mio non funzionano così le cose comunque è un peccato essere usciti dalla champions non è un peccato essere usciti dalla champions è proprio il punto nodale non è peccato siamo dispiaciuti anche se era un girone molto difficile queste sono le scuse dei perdenti detto questo partiamo sempre con l'idea di vincere non mi sembra devo dire che non mi sembra diciamo che piuttosto partiamo con l'idea che magari si può vincere ma se non succede chi se ne frega come a Sassuolo in parte ogni stagione in cui non vince è una stagione in cui avresti potuto farlo questa è una super cazzola senza motivo Pioli è da inizio stagione che la critica al mister si accende nessuno critica il mister come persona noi critichiamo i risultati i risultati sono che il mister ha detto e ha dichiarato il nostro obiettivo è secondo posto dietro all'Inter non puoi pensare che a un milanista faccia piacere vedersi sbattere in faccia uno scudetto al derby se non la seconda stella seppur di cartone è una persona squisita nessuno lo mette in dubbio con la quale si lavora molto bene nessuno lo mette in dubbio e posso dire che siamo fortunati non siete fortunati perché lo pagate non si può giudicare un tecnico su una partita noi non giudichiamo un tecnico su una partita e quante partite abbiamo giudicato questo signor tecnico ma si valuta una stagione intera e infatti vi auguro e mi auguro perché sarò in piazza a festeggiare che si vinca l'Europa League perché senza quella il fallimento è totale vedremo come andrà a finire è questa ma siamo fiduciosi mercato la filosofia è migliorare la squadra l'anno scorso abbiamo fatto parecchi cambiamenti e non l'avete migliorata beh l'avete migliorata rispetto all'anno scorso ma l'avevate distrutta però su questo avremo modo di riconfrontarci quest'anno sarà un lavoro più mirato perché le basi ci sono i profili individuati in vista della sessione estiva non è giusto dire che puntiamo solo ai giovani o a una tipologia nello specifico no, non puntate ai giovani puntate proprio a Messi, Mbappé questa gente qui quando analizziamo potenziali acquisti partiamo dallo scouting è un fattore importantissimo ci sono i dati continuano con i dati avete fatto prendere in giro tutti noi tifosi con Moneyball e continuate con questa pagliacciata dei dati di cui si parla tanto e che ci aiutano nella scelta ma poi si guarda la storia e la personalità del giocatore no, voi guardate solamente a quanto costa il giocatore e nel momento in cui propongono un euro di più di quello che è il vostro limite ed è un limite che andrà considerato perché a breve si apriranno diversi file di giocatori che vorranno rivedere il contratto comunque il discorso mercato tocca anche i big grossoneri e le ipotesi di cessioni che spaventano i tifoni i tifosi non vedo l'ora di terminare questa lettura perché mi infastidisce qui Furlani è chiaro noi non abbiamo bisogno di fare cessioni per rientrare da perdite siamo una società inattivo e abbiamo possibilità di investire questa me la voglio segnare Furlani però io credo che sia arrivato il momento di parlarti chiaramente il tuo deve essere un licenziamento un licenziamento tanto quanto è accaduto in precedenza a Paolo Maldini perché per coerenza se lui è andato via per mancanza di risultati non giudico Furlani come persona che sarà sicuramente una bravissima persona giudico Furlani come amministratore delegato della mia squadra del cuore per me lui deve essere licenziato perché questa è la filosofia di Cardinale se così non sarà al di là del fatto che sia stato già commissariato se così non sarà allora bisognerà rivedere tutto quello che è accaduto in passato che è accaduto con Paolo che è accaduto nel Milano nel primo anno legittimamente ha fatto le sue scelte ma legittimamente non ci ha dato le motivazioni per me poteva fare anche la scelta di mandarlo a Katmandu Maldini non è quello il problema il problema è che tu hai detto ai tifosi che è andato via per mancanza di risultati e allora se questo è il motivo bisogna che anche Furlani e Moncada vadano via il fatto che tu l'abbia commissariati e che abbia fatto capire loro che sarebbe opportuno si dimettessero perché così accade quando un amministratore delegato si sente dire oggi comanda tutto Ibraimovic e allora da questo punto di vista credo che se non sarà Europa League sarà opportuno questa scelta oggi abbiamo San Siro e ci focalizziamo su questo per renderlo un'esperienza migliore per i nostri tifosi un domani chi lo sa quindi adesso passiamo allo stadio sul chi lo sa io avevo l'abbonamento a San Siro e ci andavo con mio padre adesso la canzoncina della curva si mette a cantare come quando da bambino la guardavo con papà queste cose così romantiche possono fare leva su persone fragili dal punto di vista psicologico ma queste frasi a riprendere i cori della curva io credo che veramente potresti andiamo avanti Furlani parla anche di Zlatan cioè il commissario si è detto tanto leadership e decisioni finali sono di Redbird ah quindi beh grazie che sono di Redbird ma veramente è Gerry Cardinale e sotto di lui c'è un gruppo di lavoro no c'è l'amministratore delegato adesso tu hai venduto che Ibrahimovic non fa le scelte ma le scelte le fa il proprietario ma certo che le fa il proprietario ma il proprietario ha detto che le fa in base a quello che dice Zlatan va bene lasciamo perdere così l'ultima cosa sull'inchiesta c'è questa idea che Redbird non sia il proprietario del Milan chiarisce l'amministratore delegato è una cosa sbagliata i fatti sono molto semplici le autorità hanno il diritto di fare le indagini ci mancherebbe altro noi siamo cooperativi non abbiamo niente da nascondere nessuna paura va bene vi lascio ci sentiamo più tardi è incredibile questo ciao